Consac Gestioni Idriche S.P.A. rende noto che a partire dagli ore 13 di domani, mercoledì 12 dicembre, potranno verificarsi interruzioni del servizio idrico in diversi comuni ricadenti nel comprensorio cilentano e valdianese. La causa di disagio è riconducibile ad urgenti lavori di manutenzione sulla condotta del Faraone. Le località interessate sono Ascea, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Centola, Omignano, Orria, Pisciotta, Pollica, Salento e San Mauro Cilento. La riattivazione del servizio idrico nei rispettivi comuni è prevista entro le ore 23 di domani, mercoledì 12 dicembre, salvo imprevisti. La Consac si scusa per l'inconveniente ed assicura che l'interruzione sarà contenuta nel tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori. Inoltre la società avvisa che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe assumere una lieve colorazione per un breve periodo. In tal caso si consiglia di consentire il deflusso dai rubinetti fino a che l'acqua risulti limpida. Infine si rende noto che le utenze poste a quote altemetricamente svantaggiate potranno subire interruzioni di maggiore durata.